Energia, innovazione e territorio le sfide della sostenibilità. Questo l'incontro che abbiamo portato oggi a basso per riflettere proprio su quelle che sono le scelte che bisognerà fare su questo territorio ma non solo per rispondere all'unica grande sfida che in questo momento dobbiamo affrontare che è quella del cambiamento climatico. Non possiamo più ragionare in ottica di emergenza. Dobbiamo mettere in campo delle scelte a partire da quelle in materia energetica che siano prevenzione, che ci aiutino a governare i cambiamenti e a non subirli perché è solo questa la possibilità che abbiamo di mantenere veramente integri, sani i nostri territori per le persone e per l'ambiente.